Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con una cover claw case di Cooler Master, in questo caso abbiamo il soggetto rosa, esiste comunque anche in altre fantasie, quindi potrete tranquillamente trovare quella che più vi piace, la bontà di questa soluzione è il fatto di avere un'ottima facilità di afferraggio e questo bordo nella parte frontale, utile per andare a proteggere il telefono nel momento in cui per esempio lo ribaltate sotto sopra come in questo caso. La particolarità della cover è il fatto in sostanza di avere un paio di fantasie nella parte posteriore, abbiamo tre strisce in rilievo e una sorta di forma nido d'appe per quanto riguarda il resto del dorso. La bontà però soprattutto viene a evidenziarsi nel momento in cui avete appunto queste tre strisce che vi permettono di avere un saldo afferraggio appunto del telefono con indosso questa cover, poiché essendo parzialmente antiscivolo, questo bisogna evidenziarlo, ma soprattutto essendo bene in rilievo vi permette appunto di non rischiare di perdere il telefono perché magari avete le mani leggermente umide, sudate e con il telefono appunto con questa cover in rilievo vi permette di avere appunto di afferrarlo in sostanza bene senza un enorme rischio di vederselo scivolare tra le mani. Per quanto riguarda l'accesso ai tasti, come vedete abbiamo l'accesso diretto al tasto mute, per quanto riguarda invece i tasti volume sono protetti dalla cover, per quanto riguarda l'accesso superiore abbiamo il vano per lo slot cuffie, quindi tradizionale accesso da 3.5 mm e vano inferiore per quanto riguarda la porta dock, quindi parliamo del tradizionale 30 pin di Apple. Come vedete ovviamente può piacere o meno dal punto di vista estetico, per quanto riguarda la qualità e comunque la capacità di essere ottimizzato nel quotidiano, parliamo di una cover dal gusto sportivo ma sicuramente pregevole proprio perché è dotata appunto di queste tre fasce che garantiscono una presa migliore rispetto alla media delle cover in circolazione. La cover è morbida quindi non presenta particolari difficoltà di inserimento, tuttavia va a vostro gusto poterla gestire un po' come vi pare. Detto questo essendo una cover non credo ci sia molto altro da evidenziare sul prodotto in questione, quindi se avete dubbi, domande, curiosità siamo come sempre a vostra disposizione, per il momento vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, Youtube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online, un saluto presto da Giuseppe Ragazzino. Grazie a tutti.